Una settimana per chiudere il cerchio delle candidature. Sono giornate frenetiche di trattative all'interno dei partiti e nelle coalizioni per definire chi correrà per un seggio in Parlamento tra uninominale e proporzionale. Il trend è che almeno un terzo degli attuali consiglieri regionali pugliesi puntano a salire sul treno che porta a Roma. Nel Partito Democratico l'assessore all'ambiente Filippo Calacciolo avrebbe dato la disponibilità per l'uninominale nel collegio della BAT, mentre Ruggero Mennea potrebbe trovare collocazione nel listino proporzionale. Nel collegio Monopoli Fasano Brindisi c'è l'opzione Fabiano Amati, mentre in quello di Bari concorrerebbe il segretario regionale Marco Lacarra. Per i listini proporzionali i nomi caldi sono quelli dell'assessore Loredana Capone in Salento e di Donato Pentassuglia nella provincia ionica. I quattro consiglieri regionali di Forza Italia, Nino Marmo, Domenico Damascelli, Giandiego Gatta e Domenico Franzoso, hanno dato la loro disponibilità a candidarsi, mentre per il movimento Noi per l'Italia nel collegio della BAT il nome in pol per l'uninominale è quello di Francesco Ventola. Altro consigliere regionale che ambisce al Parlamento è Andrea Caroppo che dovrebbe competere in un collegio salentino sotto le insegne della Lega. Un posto nel listino proporzionale alla Camera lo potrebbe avere Erio Congedo di Fratelli d'Italia nel Salento, mentre il consigliere di sinistra italiana Mino Borraccino è stato indicato dall'Assemblea regionale di Liberi o Uguali, il movimento fondato dal presidente della Camera Pietro Grasso, per il listino di Taranto. Il vicepresidente del Consiglio regionale Peppino Longo dei Popolari starebbe per accettare l'offerta degli alleati del PD nel collegio di Bitonto Modugno, mentre in un collegio uninominale potrebbe candidarsi Luigi Morgante, componente del gruppo Schittulli Area Popolare. Dovrà valutare se accettare la Corte della Lega o della lista Lorenzin. Grazie. Grazie.